Ciao ragazzi, sono Benven, bentornati a questo mio nuovo video Quest'oggi finalmente sono riuscito a editare un cavolo di video di F16 E' per questo che quest'oggi sono riuscito a portarvelo sul canale Niente, quest'oggi come avete letto dal titolo siamo nei gol più belli di F16 I gol più belli che sono riuscito a racchiudere all'interno di un unico video ovviamente E niente, ed è per questo che per il ritorno di F16 voglio che mi lasciate un bel mi piace Condividete e commentate qua sotto se volete un nuovissimo episodio Perché a 15 potutissimi mi piace vi porto un nuovo episodio di questa serie dei gol più belli di F16 Quindi, spero che questo vi vi piaccia, buona visione e sayonara a tutti Grazie 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 a tutti